In questa puntata di Fleet Restart parleremo di Mini del gruppo e di come sta affrontando questa crisi ma soprattutto di come si prepara al futuro e lo facciamo con Fabio Fiandanese che è il responsabile flotte del gruppo BMW Italia. Ben trovato Fabio. Buon pomeriggio Giulia, grazie mille, ben trovata. Allora Fabio partiamo inevitabilmente da questo periodo storico, veramente sorprendente perché dopo due anni di pandemia purtroppo la guerra in Ucraina sta mettendo in difficoltà il mercato e la società civile. Come sta resistendo il gruppo Mini e soprattutto quali sono le strategie per una ripresa? Sì è sicuramente la domanda del momento, una domanda super calzante, super attuale. Il periodo è estremamente delicato e complesso e come in tutti i periodi delicati e complessi dobbiamo sicuramente affidarci all'equilibrio e anche alla direzione del management. Riprendo una delle ultime interviste del nostro global CEO Oliver Zipse che comunica alla stampa che proprio in questo periodo così delicato è più che mai importante fare le cose giuste e quando dice fare le cose giuste non dice fare le cose per bene ma dice appunto fare le cose giuste e fare le cose giuste oggi è fare le cose anche con un impatto positivo per la globalità, per la collettività se vogliamo. Il gruppo BMW e ovviamente anche il brand Mini parte in questo momento nella scalata di questa ripresa se vogliamo con una strategia molto chiara, una strategia di breve, di medio e di lungo termine che fonda oggi le sue radici su tre pilastri fondamentali. Il primo è l'elettrificazione, il secondo è la digitalizzazione e il terzo è l'economia circolare. Elettrificazione e economia circolare sono secondo me due punti molto importanti anche molto affascinanti della strategia del gruppo perché sicuramente l'elettrificazione è la base del momento cioè fare un prodotto elettrificato significa a tutti gli effetti fare un prodotto sostenibile, un prodotto che non ha emissioni di CO2. Con BMW attualmente l'offensiva di prodotto è di quattro modelli, la i3, la i4, la iX3 e la iX e con Mini siamo presenti con la Mini tre porte full electric. Sicuramente l'offensiva si andrà ad arricchire da qui al prossimo futuro, arriveranno in gamma entro la fine dell'anno la i7, nostra Miralia serie 7 a propulsione full electric e anche la iX1. Volume maker assoluta soprattutto all'interno del canale del del noleggio premium se vogliamo, inversione o meglio con propulsione puramente elettrica. Non si ferma però qui l'investimento nei modelli elettrici ma investiremo molto anche e soprattutto prossimo anno in quanto nel 2023 l'offensiva sarà completa o quasi con circa 25 modelli in gamma elettrificati di cui la metra 13 saranno full electric. Per cui insomma in prima battuta lo facciamo a modo nostro quindi con dei prodotti eccellenti quindi fornendo al mercato dei prodotti eccellenti e poi lo facciamo cercando di fare per bene il prodotto eccellente con un processo eccellente quindi partendo da quello che è proprio il concetto di economia circolare che vuole andare a ridurre l'utilizzo di materie prime ma preferire l'utilizzo di materie secondarie proprio per essere il più possibile sostenibile. Quindi un percorso ed un processo virtuoso nella sua totalità quindi non semplicemente mettere su strada delle vetture ibride o elettriche ma dare anche al processo una una veste e una caratteristica sostenibile. Assolutamente hai centrato diciamo per farti un esempio tutti gli stabilimenti di BMW utilizzano il cento per cento di energia pulita quindi di energia riciclabile così come tutta la scelta delle materie prime tutta la scelta dei fornitori o ancora la produzione delle vetture stesse fino appunto al riciclo al riuso delle delle vetture rappresenta per il gruppo BMW sia BMW che che appunto Mini un elemento fondamentale della strategia. Pochi giorni fa abbiamo ospitato nell'house of BMW il concept della e-vision circular che rappresenta per noi un po' l'antesiniana di questo sviluppo. Si tratta di una vettura costruita con elementi cento per cento riciclabili ed è una vettura cento per cento riciclabile per cui insomma qui riprende riprende il discorso di fare le cose giuste perché è una posizione di valore sostanzialmente. Allora Mini your business car quindi dalle ibride plug-in fino alla full electric Mini quindi due vetture veramente molto interessanti. Ci dici in veramente due battute quali sono le caratteristiche fondamentali? Quindi abbiamo parlato già della Mini elettrica sostanzialmente. Della plug-in hybrid? Quali sono quelle caratteristiche che la rendono una vettura interessante in una caratteristica? Certo. Allora sicuramente Mini nel tempo è cresciuta. Nella sua crescita c'è stata sia una crescita di gamma ma anche una crescita proprio di prodotto se vogliamo. Quando parliamo di Mini mi emoziono sempre un po' perché la mia esperienza in BMW è partita proprio con Mini in uno stage nel prodotto ma è partita prima ancora con la tesi di laurea su Mini per cui personalmente sono molto insomma legato al marchio al marchio Mini e in questa in questo ruolo in questa funzione vedere Mini crescere così tanto e arrivare a diventare non solo la la classica auto per privato ma anche un'auto aziendale cosiddetta mi fa davvero mi riempie d'orgoglio. Se leggiamo i numeri del nostro mondo corporate quindi diciamo così dell'easing operativo del noleggio a lungo termine negli ultimi quattro anni l'evoluzione di Mini all'interno l'evoluzione della performance di Mini all'interno di questo di questo mercato è stata incredibile parliamo nell'ordine di un incremento del 30 per cento che è un incremento importante in un in un mercato comunque in sviluppo e sicuramente eh da da padrone nell'evoluzione di questa performance l'ha fatta la la Mini Countryman Plugin Hybrid che rappresenta oggi il volume maker all'interno della gamma Mini nel nostro nel nostro mercato eh e che è sicuramente una macchina adatta alle esigenze di di un qualunque driver che vuole approcciare al mondo Mini eh è una macchina che ha un'autonomia elettrica eh che arriva a 50 chilometri perché è una macchina che risponde a quelle che sono le esigenze prettamente urbane così come possono essere le esigenze prettamente urbane quelle di una Mini Treporte SE quindi la Mini Full Electric lì l'autonomia cresce perché si tratta non di una Plugin ma di una Full Electric che arriva a superare i 230 chilometri di autonomia con anche un ciclo di ricarica molto efficiente così come mi piace sottolineare sempre che l'offensiva di prodotto Mini in risposta a quelle che sono le esigenze di un cliente corporate sia esso dal libero professionista alla piccola media impresa oppure ad un driver di una grande azienda oggi è perfetta per quale ragione perché la costruzione del prodotto è di fatto molto completa cioè nell'allestimento di serie nel cento per cento di una Mini tu puoi trovare il cambio automatico lo schermo con otto punto otto pollici puoi trovare i specchietti retrovisori elettrici i sensori di parcheggio tutto di serie per cui il clima bizzona i fari per cui veramente la vettura viene costruita in maniera di fatto perfetta e quando è costruita così ha un impatto decisamente positivo su quello che il valore residuo che ne genera il la rata mensile per cui da un lato c'è una qualità di prodotto altissima e dall'altro anche una costruzione di un prodotto legato al business molto molto buono in tutta la gamma Mini l'icona della Mini è su tutti i modelli ma anche lo stesso go-kart feeling lo ritroviamo su tutti i modelli anche nella nella versione full elettrica io devo dire che in questo siete capacissimi di portare avanti una tradizione legata all'innovazione senza perdere poi quelli che sono gli stilemi del marchio veramente in maniera molto interessante ultimissima domanda che riguarda la parte B2B quali sono le soluzioni che proponete al pubblico appunto B2B? Le soluzioni sono tantissime come dicevo prima il brand Mini ma ovviamente anche il brand BMW va a toccare tutti i clienti cosiddetti corporate per cui dal libero professionista alla piccola e media impresa alla grande azienda oggi ci appoggiamo alla nostra rete di vendita la nostra rete ufficiale di vendita per quanto riguarda tutte le soluzioni per liberi professionisti e per piccole e medie imprese mentre andiamo sul territorio con il nostro team dei fleet account manager dai grandi clienti cercando di di portare a loro tutta la qualità e la competenza la consulenza e le persone del gruppo BMW e devo dire che prima abbiamo parlato di di sostenibilità e di elementi che generano la ripresa sicuramente il primo elemento di ripresa al di là del prodotto eccellente al di là di dei processi eccellenti che possono esserci in un gruppo tedesco come BMW sono le persone per cui oggi come oggi il primo elemento che ti ti permette di arrivare a scalare questa montagna difficile sono le persone in BMW l'eccellenza delle persone direi che viene prima del prodotto Fabio grazie mille sei stato esaudiente ed esaustivo noi vi seguiremo e speriamo di scoprire insieme quelle che sono le novità che ci riserverete per il futuro grazie grazie Giulia grazie Grazie mille Grazie mille